Il progetto che presentiamo a Matera oggi è un progetto di lavoro che vede riunite la Fura del Sbaus di Barcellona. La loro visionarietà lavorerà con uno che è molto legato alla terra, ai piedi sulla terra, che sono io e il teatro che proponiamo da anni. È un teatro fatto di piccole cose, di pochissimi movimenti, di narrazione, della centralità della parola. La Fura del Sbaus ha una particolarità, siamo sei registra, dopo cada uno fa tre cose, sono 20 cose che facciamo oggi anni. Questo è molto importante e interessante, però questo è lo buono, che possiamo fare molta cosa per tutto il mondo. In una regione capitale europea della cultura non si poteva che aprire a degli spazi internazionali dei progetti culturali, soprattutto perché i nostri progetti culturali dal punto di vista del teatro e della musica sono progetti assolutamente maturi perché hanno comunque viaggiato in questi anni sperimentando tante forme di linguaggio. Quindi in questo caso specifico ovviamente un centro per la creatività come Baxiuria rappresenta appunto il centro di sperimentazione, di scambi internazionali che sappiamo sono ben visti da quelli che sono le residenze artistiche a livello nazionale e europeo. La Fura nient'altro è che un movimento nato a Barcellona, in Catalunia, proprio per dimostrare che poteva essere fatto un racconto originale da partire da tradizioni quasi ancestrali. Quindi questa relazione è molto forte, è molto adatta perché parla un linguaggio immediatamente comprensibile, purtroppo è molto adatta anche perché parla un linguaggio molto contemporaneo, un linguaggio fatto di carne, fatto di violenza, fatto di aria, fatto di acqua, fatto soprattutto di corpi. E in questo momento riflettere sul corpo e sulla nostra relazione fra l'anima e il corpo è uno degli elementi fondamentali della cultura contemporanea. Grazie a tutti.